Marcia! E' Franchi, come ti dicevo? Franchi! Franchi si chiama! E' Grey! E lì si faccia quello, faccia quello! E' un po' di più! E' un po' di più! Ma che non lo fate voi? E' un po' di più! E' un po' di più! Aluna! 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 Aluna, giovani! E' Bebe! E' due! E' un po' di più! 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 Qui è un po' di più! Grazie.